Mattinata dedicata all'universia di Napoli 2019, quest'oggi l'ospite d'onore al liceo scientifico sportivo Francesco Severi di Salerno è la pluricampionessa dello sci di fondo Emanuella Di Centa, che ha presentato la manifestazione insieme ad altri relatori dell'evento tra cui l'ufficio stampa e il sindaco Napoli proprio di Salerno e si è soffermato soprattutto sull'importanza dello sport per gli studenti. Ad aprire le danze, la dirigente scolastica del plesso Barbara Figliolia, che ha introdotto l'evento presentando i numeri della trentesima edizione di una delle più grandi manifestazioni sportive del mondo 10.000 atleti, provenienti da 127 paesi, tra cui figura per la prima volta lo Stato del Vaticano, sintomo della grande universalità dello sport Successivamente, il prefetto Francesco Russo e rappresentante dell'universia di Bruno Jovino hanno sottolineato l'impegno sia delle forze dell'ordine che dell'organizzazione centrale A raccontare invece le motivazioni della candidatura di Napoli, il dirigente Cus Salerno Michele Di Ruocco, che, da docente del liceo, ha fatto fatica a trattenere le lacrime per la commozione Amore per lo sport, orgoglio e passione. Questi temi fondamentali ripresi più volte anche dall'ospite d'onore Emanuela Di Centa Sportiva d'eccellenza del panorama italiano con due medaglie d'oro alle Olimpiadi del 94 A cui è stato affidato il ruolo istituzionale di coordinatrice dei paesi partecipanti Il suo intervento, ricco di insegnamenti di vita, si è soffermato sull'importanza per gli studenti di poter praticare lo sport La stessa campionessa, da ex deputata, aveva voluto fortemente la creazione dei licei sportivi, proprio come l'Istituto Severi Per dare la possibilità ai più giovani di realizzare i loro sogni e di dar sfogo alle loro passioni Da considerare di pari importanza con tutte le altre non sportive Da una vincitrice, però, non poteva mancare l'esaltazione del tricolore che indossiamo al petto Segno di grande orgoglio e senso d'appartenenza Fondamentale per uno sportivo è però soprattutto l'attitudine a migliorarsi Anche osservando altre culture, con elasticità e umiltà In chiusura, anche il governatore Vincenzo De Luca ha raggiunto il liceo E ha sottolineato l'investimento di 270 milioni utilizzati per la preparazione dell'evento 64 sono infatti gli impianti ristrutturati Con la speranza che le universiadi possono portare uno slancio economico e turistico a tutto il territorio campano